Sì, diciamo che non sto ancora proprio benissimo, però questa settimana ho iniziato a usare la mano senza tutore durante il giorno, però ovviamente per la partita dovrò usarlo per un altro mesetto, quindi sono contento e speriamo guarisca fresco. Questo è stato il mio primo derby e penso sia stato, soprattutto per i tifosi, uno spettacolo, perché veramente noi in campo ci siamo divertiti, abbiamo creato veramente tante occasioni da gol, senza contare i quattro pali, le occasioni mie di Correa, quindi penso che la squadra abbia creato molto, ha fatto veramente bene, verso molti tratti della partita ha dominato, quindi siamo contenti, però ovviamente se portavamo a casa i tre punti lo eravamo di più, però continuiamo questa striscia positiva e adesso abbiamo la sosta e poi pensiamo subito alla trasferta di Ferrara. Uno spettacolo calcistico incredibile, per me è stato un onore farne parte, sono veramente contento della prestazione della squadra perché abbiamo fatto molto bene e peccato solo per il pareggio.